Marco Taba, protagonista oggi con la Sir Safeti Bastia nell'incontro, vinto 3-0 con un po' di fatica però nel terzo set, Marco? Sì, sì, la squadra sta lavorando bene, certo le difficoltà si incontrano, come sappiamo tutti, è un campionato difficile, però è importante superarli. Il 3-0 quindi importantissimo per noi per proseguire questo campionato nel migliore dei modi. A Nagnis, formazione neopromossa ma sicuramente una formazione abbastanza ostica da domare. Nella pallavolo, come sempre, quando un avversario prende un po' e trova stimoli su quello che fa, diventano tutte squadre fastidiose, quindi bisogna essere bravi noi, quando troviamo una squadra tecnicamente più scarsa di noi a mettere subito piedi in testa. Abbiamo fatto il primo set, il terzo set un pochino meno, però la reazione è stata grande. Questo inizio di campionato ha visto la possibilità di giocare per Marco Taba in diverse occasioni, significa che quest'anno Bastia darà l'opportunità a tutti quanti di esprimersi? Sì, noi mettiamo quel pizzico di esperienza in più che tanti anni facciamo questo campionato, però la squadra è importante che sappia che dalla panchina ci sono degli innesti che possono dare una mano, sono tutti consapevoli di questo e noi siamo molto contenti.